Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in questa nuova puntata, in questa nostra quarantena e per te e compagnia cosa ho deciso di fare oggi, di andare al supermercato e di fare una spesa unica con che cosa? Con quello che c'è in congelatore, non sempre dobbiamo trovare la roba fresca, se non si trova non diventiamo scegli, ma compriamo Cosa ho preso? Pagioli in scatola, cannellini bio, del merluzzo congelato, dove ci serve? Comodorini e carciofo E qui cosa ho fatto? Tutto quello che ci rimane a casa, eccolo qua, foglia di lattuga, costa di bietola, pomodoro sottosale, carote che ho fatto? Gli ho frullati e mi sono fatto un bel dado vegetale e per cosa lo uso? L'utilizzo subito per andare a cucinare i carciofi E quindi, olio Mettiamo un cucchiaio E lo faccio rasonare piano piano Guardate come pulisco il carciofo, veloce, coltello seghettato In questo caso questo lo buttiamo via, invece il gambo ce lo conserviamo Ecco che, pronto Tagliamo Togliamo la barba interna Il carciofo ce lo tagliamo A striscioline Perché è bello divertirci, ma troppa pasta, troppi dolci Pensiamo anche all'alimentazione della nostra dieta quotidiana Perché le proteine sono fondamentali Troviamo la carne fresca al banco E andare a trovare il pesce Quindi prendiamo quello congelato Perché è sempre buono Quindi Carciofi Pomodorini Giorribette E un mestolo di brodo Lo facciamo rasonare piano piano Ecco qua E dopo metto un cucchiaio di Anche due Di fagiolo Quindi Questo io lo utilizzo come contorno Ma nessuno ci vede utilizzarlo come una zuppa Se qua abbiamo dell'olzo o del farro Lo mischiamo qua Abbiamo una bella zuppa di legumi Il pesce lo facciamo Il pesce ce lo abbiamo Mettiamo Un po' d'olio Un po' di pepe Un po' di sale E lo metto a marinare Un po' di buccia di limone Lo lascio marinare per qualche minuto Dopodiché vado Lo vado a panare Farina Olio Lo facciamo rosolare Ambe o due le parti Lo sfumiamo Con del vino bianco Della vernaccia ancora meglio O comunque un vino secco Poi cosa ci sta bene in questo caso Un po' di finocchietto Ma in caso di finocchietto Anche Un ammetto di basilico Ci sta bene Correggiamo di sale Correggiamo di pepe Un buon olio extravergine A finire la cottura E via I carciofi li voglio croccanti C'è un profumo eccezionale Diciamo che il pesce È quasi pronto Preparo il piatto Bagno Con un goto di vino Nel frattempo si restringe la salsa Ecco qua guardate C'è un profumo eccezionale Guardate come è tirato. Ragazzi, proviamo, divertiamoci e non mangiamo solo proteine della carne, manca il pesce. Se lo troviamo congelato è sempre buono. Buon divertimento e buon appetito!